Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Goccolazzo e siamo tornati qua sulle compilation degli incidenti più spettacolari su formula 1. Dopo un mese, passato anche, siamo riusciti a vedere se mi piace e quindi adesso vi chiedo di nuovo se mi piace. Io sono a Cable e mi raccomando votatevi tutto per la azione, già guardatevi la testa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.